Ringraziamo Estra per averci dato la possibilità di porre attenzione su un tema che è di grande attenzione come sempre succede nei momenti in cui c'è anche un po' di crisi economica, cosa che non ci possiamo naturalmente nascondere. Questi sono mesi importanti anche da un punto di vista economico per il nostro paese. Il centro dell'indagine è stato proprio il tema della povertà energetica e soprattutto le misure, gli strumenti che si possono mettere in campo per cercare di contrastare questo fenomeno. Come abbiamo cercato di studiare il rapporto tra italiani e povertà energetica? L'abbiamo fatto attraverso un'indagine, un'indagine naturalmente campionaria, un sondaggio su un campione di poco più di 500 italiani, un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiore, è naturalmente stratificato per le principali variabili sociodemografiche. Abbiamo deciso di partire più da un tema generale, cioè qual è il clima generale secondo gli italiani da un punto di vista economico, come vedono la condizione economica del paese? In questo momento la visione degli italiani è piuttosto negativa, la maggior parte degli italiani ci dicono immaginiamo la situazione, vediamo la situazione economica dell'Italia come peggiorata, nettamente peggiorata rispetto a quanto non fosse l'anno scorso. Un peggioramento che loro vedono addirittura più forte nella situazione generale dell'Italia rispetto alla propria situazione economica generale. Va detto che c'è anche un po' di, diciamo, marginale, parziale, ottimismo sul futuro. Se gli italiani il recente passato economico lo vedono negativo, nel futuro resta una visione di possibile peggioramento però lievemente migliore rispetto a quanto registrato negli ultimi anni. Ma allora noi abbiamo cercato di capire quali fossero le spese che gravano di più nel bilancio familiare. Insomma, che cosa fa paura agli italiani quando devono pensare alle loro spese, quelle più importanti, quelle, diciamo, strutturali della loro vita familiare? E certo ci aspettavamo un ruolo importante di spese alimentari, trasporti, affitto, tutte le altre spese che conosciamo. Non ci aspettavamo un peso così importante proprio delle bollette di energia, elettriche e gas, che sono la prima spesa in termini di paura, preoccupazione per gli italiani. Tanto che quel 20% di italiani che ci dice abbiamo ancora qualche difficoltà nel sostenere alcune spese quotidiane, ci dicono la spesa che ci fa più paura, che facciamo più fatica a sostenere, è proprio la bolletta di energia e gas. Naturalmente ci sono alcune categorie sociodemografiche che fanno più fatica a pagarla, sono sostanzialmente gli italiani che non hanno casa di proprietà, ma naturalmente vivono in affitto, e i nuclei familiari più grandi, quelli con quattro e più persone. E come cercano di fronteggiare gli italiani questo problema? Insomma, che soluzione trovano? Naturalmente trovano le soluzioni più di buonsenso da un certo punto di vista, ma diciamo anche un po' preoccupanti, drammatiche. Vediamo che una grande quota di coloro che sono in difficoltà nel pagamento della bolletta cercano di risolvere, ovviare a questo problema riducendo l'utilizzo del riscaldamento di casa, quindi magari sopportando un po' più il freddo, insomma soffrendo in alcuni casi cose anche molto preoccupanti, molto fastidiose nella vita quotidiana. E allora noi a questo punto abbiamo cercato di capire in che modo si potesse risolvere e si possa risolvere un problema così grave, così importante per la vita delle persone. Prima di tutto abbiamo chiesto, secondo voi chi se ne dovrebbe occupare? Chi dovrebbe prendere carico di questo problema? In prima posizione per gli italiani ci sono le autorità pubbliche, la difficoltà nel pagare le bollette dovrebbe essere affrontata dallo Stato, dal Comune e dalle regioni, ma anche le aziende energetiche, secondo una quota non marginale degli italiani, circa un 16% potrebbero, dovrebbero avere una funzione in questo senso. Abbiamo allora deciso di cercare di comprendere quale possa essere la soluzione ideale per gli italiani, insomma che cosa sarebbe risolutivo, secondo i nostri concittadini, per abbattere il muro della povertà energetica? Naturalmente in prima posizione la diminuzione del carico fiscale, che piace, è quasi un plebiscito, piacerebbe al 93% dei nostri intervistati. In seconda posizione le comunità energetiche, sostenute dal 90% della nostra popolazione, ma abbiamo anche voluto testare alcune opzioni che un po' coinvolgono direttamente le persone, insomma la loro disponibilità economica, in particolare due, l'assicurazione di mutuo soccorso e la quota aggiuntiva in bolletta, insomma la possibilità di aggiungere qualcosa a quello che versiamo ogni mese per aiutare chi non riesce a pagare la bolletta. Abbiamo notato un tratto sorprendente, in realtà non siamo del tutto sorpresi dall'altruismo, dalla propensione a dare una mano agli altri da parte degli italiani. Abbiamo visto che il 60% circa degli italiani sarebbe disposto a pagare un po' di più in bolletta per aiutare chi non è in grado di sostenere da solo e pagare da solo la bolletta, e addirittura una quota lievemente maggiore, il 63% dei nostri intervistati, sarebbero favorevoli a questa idea, all'idea dell'assicurazione di mutuo soccorso, a tutele, a sostegno delle famiglie che non riescono a pagare la bolletta. Insomma quello che emerge dalla nostra indagine è un quadro in cui sicuramente la popolazione italiana vive un periodo di sofferenza economica, ma continua a mantenere il proprio tratto distintivo, anche storico, nei momenti di difficoltà di mettersi insieme, darsi una mano reciprocamente e provare a superare le difficoltà con l'aiuto degli altri.